Ciao! Buonasera Vi chiedo gentilmente di chiudere gli occhi Io non vi vedo, quindi mi fido, però chiudeteli, fidatevi. E adesso provate a visualizzare ciò che vi andrò a descrivere. Sei in biblioteca perché devi studiare per i tuoi esami universitari. La stanza in cui ti trovi è grande, bella, elegante. Il soffitto è alto e affrescato. Per favorire lo studio, visi la regola del silenzio. Quindi ogni movimento è fatto il più delicatamente possibile. Appoggi il tuo primo caffè sulla scrivania, i libri, il tuo corrente. Ti siedi. E se presti attenzione, attorno a te comincerai a sentire le pagine dei libri che vengono sfogliate. Il rumore del righello che viene cercato nell'astuccio. La matita che scrive sul quaderno. I passi di chi entra e esce dall'aula. Le persone che parlano a bassa voce per non disturbare. Un po' così. Piano, piano, piano. Ora aprite gli occhi. Qualcuno di voi si è rilassato? Alzi la mano chi ha provato la sensazione piacevole. Voi siete la me di otto anni fa, studentessa in crisi che per colpa di quei suoni rischiava ogni volta di addormentarsi sui libri. In quel periodo avrei scoperto un acronimo di quattro lettere che mi avrebbe cambiato la vita. Era un giorno di gennaio 2014 e io stavo studiando per il tenutissimo esame di chimica organica 2. Per combattere la noia dello studio da casa spesso andavo in biblioteca. E ho presto notato come i suoni intorno a me, soprattutto gli altri studenti che parlavano a bassissima voce, mi provocassero dei brividi intensi che partivano dalla testa, passavano lungo il collo, fino alle spalle. E questa sensazione era anche accompagnata da sonnolenza. Era talmente rilassante come esperienza che un giorno di quelli ho fatto una ricerca su YouTube, che potrà sembrare bizzarra. Ho infatti cercato la parola Sussurri. E in italiano ho trovato principalmente video di meditazione. In inglese, invece, tutti i video che mi apparivano avevano in comune nel titolo un acronimo di quattro lettere. A. S. M. R. Scoprendo questi video mi si è aperto un mondo fatto di persone che parlano a bassa voce, chiamato whispering, unghie che picchiettano su oggetti, che ho scoperto chiamarsi tapping, e tutti dei suoni, oggetti comuni, resi speciali perché catturati da dei micropoli. Ora, una domanda che vi sarà venendo in mente, è tutto molto bello, chiara, però, che cosa vuol dire ASMR? ASMR sta per Autonomous Sensory Meridian Response. Quindi, tradotta è la sensazione, è la risposta del nostro corpo a certi stimoli che possono essere uditivi, visivi o tattili. E la risposta del nostro corpo a questi stimoli non sono altro che questi famosi brividini che spero abbiate sentito nella visualizzazione iniziale. Ma mi spiego meglio. Avete mai trovato dei brividi quando qualcuno vi tocca i capelli o vi fa grazzini sulla schiena? Vi siete mai rilassati ad ascoltare il suono del phone? Vi siete mai incantati a guardare le televendite con il loro descrivere delicatamente un oggetto, involontariamente produrci dei suoni? No, non state impattendo. Come dilebbe, l'Una Lovegood di Harry Potter siete sani di mente quanto me. Questi sono i brividi che intendo. E questa sensazione prende il nome di ASMR. L'SMR quindi parte da una sensazione reale che troviamo nella vita di tutti i giorni, offline. E allora perché non ricreare questa sensazione online? Per farvi capire i miei contenuti devo prima descrivervi i miei video. Nel mio video io uso diversi microfoni, più diversi tra loro e molto sensibili. Uno addirittura ha le orecchie per poter donare allo spettatore un'esperienza uditiva il più realistica possibile. E attraverso questi microfoni io catturo non solo la mia voce, che è molto spesso delicata, si è sorrata, ma anche tutti i suoni che io trovo rilassanti, come il suono della carta, il suono dell'acqua, il suono della spazzola tra i capelli. Questi video quindi hanno lo scopo di rilassare chi li guarda e di farlo stare bene. Ma a mia parere c'è qualcosa di più. Quando creo questi video e mi metto davanti alla telecamera, io non parlo sulla bassa voce o non faccio solo suoni, ma ci metto il cuore. Perché il mio obiettivo è quello di far sentire a proprio agio chi mi segue, di farlo sentire accolto, al sicuro, che con me può tendersi quel momento e rilassarsi. Io sono lì per lui, per lei e per il suo benessere. E questo è il mio scopo ultimo, quando qualcuno mi scrive che con la mia voce nelle orecchie si addormenta in due minuti, che con me si conseguono quel piccolo momento a fine giornata, che sono entrata a far parte della loro quotidianità. Per me è tutto. Vuol dire che si fidano, perché è il momento in cui siamo rilassati, è il momento in cui siamo più fragili, più vulnerabili. I video ASMR non vengono visti solo per addormentarsi, ma possono anche aiutare in un periodo di ansia per un particolare evento, in un periodo di stress per un periodo duro, o anche semplicemente possono essere usati per rendere un momento della giornata tra noioso ma rilassante. E come potete immaginare, la community che si forma attorno a questi video è dolce, pacata, rilassata, gentile. C'è sempre chi però, dopo non aver compreso ciò che sta guardando e sentendo, al posto di cercarlo, o chiederlo gentilmente, si sente in dovere di dirti di andarti a farti ricoverare, perché sicuramente hai qualche rotella fuori posto. Negli anni altre persone semplicemente pensavano fosse una moda, quindi che sia io che altri appassionati ci saremmo stancati presto di questa cavolata. Altri, nella loro immenza soggezza, mi consigliavano di trovarmi in un lavoro vero. È lo scontro con il mondo reale però che fa più male. Gente che ride di te perché non capisce ciò che fai, che pensa che sia ridicolo, che pensa che tu sia ridicola. Guardi di scherno, risatine, persone che pensano che tu sia strana. Che poi negli anni è diventato più un complimento che altro. E se ci pensate, tutto questo può risultare strano, perché va in contrapposizione con tutto ciò a cui siamo abituati. In un mondo in cui urli più forte, per farti valere, io parlo a bassa voce. In un mondo chiassoso, caotico, qui trovi il silenzio. In un mondo veloce, frenetico, qui trovi la calma. In un mondo pieno di rumore, si riconosce il vero potere di un sussurro. Che poi, andatemi a trovare un'altra persona, a cui può piacere sentirsi dire che vi fa addormentare. E un anno dopo averli scoperti, ho cominciato a crearli. Un po' per curiosità, mi sono messa dietro alla telecamera, davanti al microfono, e da lì non ho semplicemente più smesso. Nel 2019 mi sono laureata, mi ho dovuto fare una scelta. Vado a svolgere un lavoro conseguente alla mia formazione o scommesso sulla mia passione? L'avrete capito, ho scommesso sulla mia passione non sapendo realmente dove mi errebbe portata. Ma ora sono molto fira di dire che questo è il mio lavoro. E come avrete potuto pensare? Io amo prendere ispirazione da tutto ciò che è intorno. Potete trovarmi in un negozio a prendere in mano un oggetto, sentire che sono fa vicino all'orecchio. E in generale io cerco di prestare attenzione a tutti quei momenti che possono essere rilassanti nella vita di tutti i giorni. E tutta questa ricerca mi fa tornare bambina, ma in modo diverso. Mi fa riscoprire nuovamente il mondo sotto un altro punto di vista, o meglio, di udito. Avete mai provato a fare una passeggiata nella natura e a provare a sentire che sono fanno le piante intorno a voi? O i vostri passi al seconda del terreno, se ci fanno minate? Avete mai provato nella vostra borsa e notato che sono fanno i vari oggetti all'interno? Fare caso a queste piccole cose può essere entusiasmante, perché ti sembra di riscoprire la realtà intorno a te. E potete vedermi gioire per aver trovato un particolare fiore, che non mi aspettavo, una carta, un frutto. Ma sapete la cosa bella qual è? È che ho contagiato chi mi segue. Ora anche loro hanno sviluppato questa particolare sensibilità, per cui magari appena un pacchetto di caramelle gioiscono perché non sono particolarmente piacevole. Come è il detto, la felicità va trovata nei piccoli suoni. E sapete qual è la mia speranza? È che da questo momento vi godiate questa nuova sensazione di riscoprire che suono fa la vita intorno a noi. Grazie. Grazie.